Prosegue il lavoro di rivisitazione dello statuto regionale in commissione riforme. L'organismo presieduto a Sinibaldo Esposito ha approvato all'unanimità la proposta di provvedimento amministrativo che integra il regolamento interno del Consiglio, disciplinando la partecipazione dello stesso alla formazione e all'attuazione della normativa europea. Un modo per provare a restituire consistenza al ruolo dell'Assemblea, diventato sempre più marginale nei confronti dell'Aggiunta e dei Governatori, soprattutto durante gli ultimi dieci anni. La Commissione ha altresì ripreso la trattazione della proposta di legge statutaria d'iniziativa dei consiglieri Esposito e Pasqua sulle modifiche e integrazione allo statuto della Regione Calabria, una proposta volta alla semplificazione del procedimento legislativo anche al fine di evitare il contenzioso davanti alla Corte Costituzionale. Sul punto si è sviluppata una discussione dalla quale è emersa la necessità di audire, già a partire dalla prossima seduta, in rappresentanza del Governo regionale il Vicepresidente Viscomi, che nella riunione di ieri, nonostante fosse stato convocato, si è reso indisponibile per inderogabili impegni istituzionali. L'assenza dell'assessore al bilancio, per quanto giustificata, non ha mancato di farsi notare e di insinuare qualche interrogativo anche tra i consiglieri di maggioranza, che alla spicciolata hanno lasciato l'Aula Commissione al termine dei lavori. Le voci di un imminente rimpasto di giunta continuano a rincorrersi e anche il Vicepresidente è tra i nomi papabili. Riccardo Tripepi per la CNews24